Giovedì 16 luglio, buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia Marco Presutti. In vista della scadenza di metà mandato si rincorrono le indiscrezioni sul toto Assessori e spunta il nome di Vincenzo Cotugno. In corsa anche Michela Fanelli, benché contestata dai dissidenti interni. Alla presidenza del Consiglio l'ex sindacalista Michele Petraroia. Intanto alcuni consiglieri regionali di centrodestra hanno fatto sapere che impugneranno l'atto di transazione da 400 mila euro, sottoscritto dalla Regione con la segretaria del PD. Sentiamo in proposito Giovanni Minicozzi. Mancano oltre due mesi alla scadenza di metà mandato, ma tra conferme smentite le indiscrezioni sul rimpasto della Giunta regionale, annunciato per quella data da Paolo Frattura, si rincorrono e diventano argomento prioritario di confronto politico a dispetto delle tante emergenze che assillano i molisani. Il Governatore, dopo aver annunciato nel dicembre del 2013 l'imminente sostituzione di Massimiliano Scarabbeo dall'esecutivo, pratica inspiegabilmente archiviata dallo stesso Frattura, nei giorni scorsi ha fatto sapere che la verifica politica e il conseguente rimpasto si faranno a fine settembre, quando scadrà anche il mandato al Presidente del Consiglio, Vincenzo Niro. Frattura ha già detto ai segretari dei partiti di centrosinistra che la verifica verterà sul programma di governo per dare la svolta all'economia mulisana in difficoltà e non sulle persone da inserire nel nuovo esecutivo. Questa volta non mi farò condizionare da nessuno, aveva detto il Presidente durante l'ultimo vertice di maggioranza, con un chiaro riferimento ai parlamentari del PD, Roberto Ruta e Dalilo Leva. In occasione del riassetto della Giunta, il Governatore dovrà risolvere anche il problema della quota rosa e l'unica donna eletta nel centrosinistra è Nunzia Lattanzio, che però appare fuori gioco poiché la direzione del PD avrebbe già indicato la segretaria Michela Fanelli. Tale designazione però spacca il partito e i sedicenti dissidenti contestano sia l'ingresso in Giunta di Fanelli sia la transazione sottoscritta con la Regione per un contratto quinquennale da 400.000 euro, ora congelato per incompatibilità, come tesoretto per i tempi di magra, hanno dichiarato i non allineati, spiegando che per questi motivi la segretaria del PD non spende una sola parola sui temi caldi della sanità e del lavoro. Sulla contestata transazione è da segnalare un secondo parere espresso dall'Avvocatura dello Stato lo scorso 24 giugno, con il quale l'organismo giuridico sostanzialmente si è lavato le mani e ha rimesso ogni decisione all'autonomia della Regione. Alcuni esponenti di centrodestra però hanno fatto sapere che impugneranno nelle sedi opportune l'atto di transazione che peraltro con il ritiro del procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale di Campobasso ha eliminato l'incompatibilità per la Fanelli che ora potrà occupare anche la poltrona di Assessore regionale mantenendo congelato il posto assegnatole nel nucleo di valutazione. Davvero un bel colpo per il Sindaco di Riccia. Tornando infine al rimpasto, secondo indiscrezioni, si prospetta un'aggiunta regionale con due nuovi assessori, Michela Fanelli appunto e il venafrano Vincenzo Cotugno di Rialza di Molise in sostituzione del dimissionario Massimiliano Scarabbeo e di Michele Petraroia. Resterebbero a loro posto invece gli assessori Vittorino Facciolla e il fido per Polo Nagni. La poltrona di Presidente del Consiglio invece verrebbe assegnata a Michele Petraroia. 4 milioni di euro da assegnare in 10 giorni. A tanto ammonta la somma messa a disposizione dalla Regione per l'efficientamento energetico di amministrazioni comunali ed enti pubblici. Un bando dai tempi strettissimi che suscita dubbi e perplessità sulle assegnazioni finali che è diventato oggetto di una interrogazione al Presidente della Giunta. Ce ne parla in questo servizio Pasquale Di Bello. Il Molise di tutti, quello che ci era stato promesso in campagna elettorale, più lo si guarda e più appare il Molise dei pochi, quello degli amici e dei bene informati. L'ultima novità su questo fronte è data da un avviso pubblico per l'efficientamento energetico degli edifici occupati dalle amministrazioni comunali e dagli enti, confezionato, a quanto pare, più che per pubbliche istituzioni per centometristi della progettazione. Per assegnare infatti 4 milioni previsti dal bando, la Regione ha dato agli interessati solo 10 giorni per la presentazione delle domande, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul bollettino regionale. Considerando che la delibera di giunta numero 317 porta la data del 22 giugno scorso e che l'avviso è stato pubblicato sul bollettino regionale il successivo 26 giugno, i termini sono ormai ampiamente scaduti. All'ora delle due luna, o tra i progettisti deve essere annoverato qualche mandrake, oppure, rispolverando l'adagio andreottiano secondo il quale a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca, ci viene da pensare non male ma malissimo che qualcuno già sapesse degli eventi in corso. Non contenti, i loro signori burocrati e governanti hanno poi aggiunto al bando un altro capolavoro, criterio per l'aggiudicazione dei progetti e delle relative risorse, sarà quello basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ciò ha conferma che il governo del Molise predilige i centometristi alla qualità. È indubbio, infatti, che alle condizioni date, più che un progettista alle amministrazioni comunali e agli enti, occorre un redivivo Pietro Mennea per accedere al bando. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Salvatore Micone, che ha presentato al Presidente della Giunta una interrogazione a risposta scritta orale per conoscere le ragioni di tanta precipitazione e velocità. Considerando tuttavia i tempi biblici riservati agli atti di sindacato ispettivo, i molisani possono stare tranquilli. L'interrogazione di Micone verrà esaminata tra un'era geologica e il bando andrà ad appannaggio di qualche fulmine della progettazione o di qualcuno bene informato. Nessuno stop al servizio di trasporto urbano di Termoli. È stata, infatti, trovata un'intesa in regione per evitare il blocco dei bus dopo che la GTM aveva comunicato di non avere più le risorse per i rifornimenti di carburante. Da quanto si è appreso all'azienda, sarà corrisposto un primo contributo già da lunedì prossimo. Una serata originale con un omaggio a Pino Daniele, quella in programma dalle 20 e 45 di oggi a Campo di Piedra, nell'undicesima edizione di Jazz in Campo. Un progetto inedito, arrangiato e diretto da Antonello Capuano che coinvolge oltre 20 artisti sul palco. Un'orchestra, 14 archi, 4 fiati, le voci di Ilaria Bucci e Salli Cangiano e musicisti di livello come Grimaldis barra Faraldo. La special guest della serata è Ernesto Vitolo, uno dei più apprezzati suonatori italiani di organo Hammond, pianista ed arrangiatore per Pino Daniele, oltre che di tanti grandi nomi della musica italiana. Dalle esperienze degli anni 70, maturate poi con Napoli Centrale, e fino agli ultimi progetti dal vivo, come la Epicate Union, il gruppo storico di Nero a Metà, in piazza Plebiscito nel 2008, Vitolo ha avuto sempre un rapporto speciale con Pino Daniele. Come di consueto sta offerta al pubblico la possibilità di apprezzare sapori e vini del territorio. Bene, con la nostra informazione è tutto, adesso la rassegna stampa. Iniziamo come sempre con il giornale del Molise.it. In apertura salviamo il Molise da Petraroia. I lavoratori crepano, lui straparla del Tempio di Apollo, il pezzo è a firma di Pasquale di Bello. Dunque, nemmeno davanti ai drammi e alle disperazioni quotidiane che uccidono la speranza dei lavoratori, scrive Di Bello, non accenna a decrescere la fluviale prosopopea dell'assessore regionale al lavoro. Invece di occuparsi delle crisi industriali, dello smantellamento dei presidi sociali, della disperazione imperante, Petraroia non trova di meglio che narrare ai molisani le vicende creditizie del Tempio di Apollo. Torniamo in home e vediamo le altre notizie sul giornaledelmolise.it. C'è la cronaca, incidente sulla Fondovalle Tappino muore un camionista di 46 anni. Ancora revocati i domiciliari ai fratelli Scarabbeo. La Commissione europea approva il FESR, il Fondo Sociale Europeo, 153 milioni per occupazione, ripresa e crescita. Le altre notizie, autista della SEAC, pedinato e poi licenziato, il Tribunale ne ha disposto la reintegra. Ancora c'è una notizia di cronaca, morte sospetta al Veneziale di Sernia, la Procura procede contro ignoti per omicidio colposo. Tra le altre notizie, la Will potenza i servizi sul territorio, Tecla Boccarlo dice che servono risposte dalla Regione. Nella sezione editoriale Idee e Opinioni, la questione delle Iene, il nuovo blitz delle Iene in Regione, ma quelle vere sono già dentro, lavorano un'ora e incassano 250 euro a testa, l'articolo a firma di Pasquale Di Bello. Primo piano mulese, apre con la vicenda che riguarda i fratelli Scarabbeo, revocati i domiciliari. Il riesame ha stabilito che non potranno dimorare in Regione, soddisfatti i legali. È il primo passo per dimostrare le ragioni dei nostri assistiti, hanno detto. Intanto su Facebook l'ex assessore parla della sua vicenda e attacca il becero opportunismo della politica. In alto, ITR, errore nel decreto, cassa integrazione congelata per 247 lavoratori, altra doccia fredda sui cassi integrati del tessile. La segno ritarda, bisogna riavviare la procedura all'Inps. Sulla spalla il rapporto dell'Istat, si ingrossa l'esercito dei poveri, in Molise è il 19,3% della popolazione. Andiamo a centro pagina, abuso d'ufficio, assolti ex vertici dell'azienda sanitaria regionale, rinviati a giudizio per incadichi assegnati senza una selezione. Dunque scaggionati con formula piena Angelo Percopo, Giancarlo Paglione, Gianfranca Testa e Fabio Cofelice. Con i richiami da Termoli, trovata l'intesa a Palazzo Vitale, abbiamo sentito anche nel nostro notiziario, i bus della GTM regolarmente in servizio. E poi la vicenda di Castelpizzuto torna l'acqua nelle case dei cittadini, lieto fin nella querella tra Castellina e Comune. La cronaca di taglio basso perde il controllo del tir e sfonda il guardrail, muore un 46enne l'incidente sulla strada per Riccia. La vittima è Gabriele dell'Annunziata, autotrasportatore di Pozzuoli. Ci spostiamo a Vasto, carenza idrica, domani riunione plenaria al Genio Civile, mentre per il calcio, quello di Serie D, Bucchi infiamma i lupi e dice siamo il team da battere. In arrivo le noci. Termoli, nuovi soci nella cordata, nella notte, summit decisivo. Ancora in Abruzzo, Vastese, Bolami svela il progetto, Gallicchio al Carpi, San Salvo a Rufini. Chiudiamo primo piano, andiamo sul quotidiano, che apre con questa notizia di cronaca, si ribalta il tir, autotrasportatore muore schiacciato tra le lamiere. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla statale 212 all'altezza del Bosco Mazzocca. La vittima è Gabriele dell'Annunziata, 46enne originario di Pozzuoli. In alto, l'inchiesta alta tensione, revocati i domiciliari a Scarabbeo. Lotterò per la mia dignità. La decisione dei giudici del riesame per i due fratelli, obbligo di dimora fuori dal Molise. Asrem, assolti tre funzionari e l'ex manager Percopo. Da Campobasso, truffa e peculato, rinvio a giudizio annullato per l'Epore. Esulta la difesa dell'ex commissario dello IACP. Ci spostiamo a Termoli. Cronaca, ragazzina aggredita per strada da una donna di etnia Roma. La quindicenne, aggredita, è finita al Santimoteo. Le altre notizie, altri richiami sulla spalla. Mussolini non è più cittadino onorario di Termoli, ma la decisione del Consiglio scatena la polemica. A Venafro, Pirazzoli, il direttore generale dell'Asrem, il Santissimo Rosario, sarà un ospedale di comunità. Da Isernia, invece, Brasiello, ecco perché ho nominato due nuovi assessori. Parla dunque il sindaco. Ci spostiamo a Campobasso. Un altro primo cittadino, Battista, dice no all'azzeramento delle deleghe. Dialogo, cercasi in comune. Il sindaco opta per la verifica del rapporto tra giunta e maggioranza. La cronaca dall'isole Tremiti, comune in avaria, salvata, famiglia con tre bimbi. Anche qui vediamo il calcio di Serie D, Campobasso, l'entusiasmo di Bomber Bucchi. Non vedo l'ora di iniziare. Intanto a un passo gli accordi con la Mezzala, Boldrini e il 96, Le Noci. Calcio mercato, Vincenzo Rimcamato a proda alla Lupa Roma in Lega Pro. Per il calcio regionale, Montaquila, iscrizione a rischio. Campo di Pietra, c'è Marrone. Sul futuro Mulise, quotidiano telematico in alto, Massimiliano Scarabbeo esterna il suo pensiero subito dopo l'ordinanza di revoca dei domiciliari. Ho la coscienza a posto, dice, dimostrerò la mia estraneità ai fatti. Dai Sernia, Movimento 5 Stelle, il miraggio dell'8-0, questa opera non sa da fare. Da Venafro, si parla del Santissimo Rosario, c'è l'intervento del consigliere regionale Cotugno, con i nuovi piani operativi sanitari, sarà ospedale di comunità, garantendo così l'operatività della struttura. Vediamo qualche altra notizia di costruzione post-sisma, accreditati 27 milioni di euro. Oggi pomeriggio, conferenza stampa del Presidente Frattura. E ancora da Termoli, di Brino, l'ospedale Santimoteo, in affanno per carenza di posti letto e organico. Siamo a Termoli, stagione estiva, comune di Termoli, appunto arriva l'ordinanza per la sospensione di tutti i lavori edili in corso. Mentre da San Martino, una comitiva di giovani a bordo di un'auto finisce fuoristrada, tutti salvi. Andiamo sui quotidiani nazionali. Qui c'è la questione della Grecia, è notata il sì del Parlamento al piano di austerità. Dunque il Corriere della Sera è in apertura, il sì a Tsipras, tra le proteste via libera del Parlamento al piano UE, anarchici contro i poliziotti nelle strade. L'accordo approvato con 229 voti a favore e 64 contrari. Siriza si spacca, governo in bilico. Chiudiamo il Corriere della Sera per vedere anche l'apertura di Repubblica. Eccola qui, Atene vota, Siriza si spacca, drammatica riunione Tsipras al suo partito. Se non approvate il piano io mi dimetto. Intanto scontri davanti al Parlamento riunito. Il Fondo Monetario Internazionale tagliate il debito o noi non parteciperemo. E qui c'è una foto degli scontri tra polizia e manifestanti. Da Repubblica adesso alla stampa, Grecia un voto tra sfide e scontri. Il D-Day del Premier che ha difeso in aula l'accordo sigillato con l'Europa. Intanto il Fondo Monetario, abbiamo visto, chiede il taglio del debito. In basso Obama, senza intesa, era guerra. E si parla della firma sul nucleare con l'Iran. Festa a Teheran. Il Presidente americano, la Russia, ci ha aiutato. Chiudiamo anche la stampa per passare al giornale. La Grecia si arrende nel caos. Piazza in fiamme. Il Parlamento greco vota le riforme circondato dalla furia dei manifestanti. Scioperi, scontri e motov svuotano. Atene Tsipras è sempre più in bilico. Dal giornale adesso a Libero, che ha un'altra apertura, i voti alle banche italiane come difendere i nostri soldi. Dunque, una per una, ecco le valutazioni delle agenzie di rating e dell'indice di verifica, che verifica i tassi di rendita del capitale. Se l'Istituto di Credito fa crack, imprese e partite IVA rischiano di perdere 270 milioni di euro. Il Fatto Quotidiano. Tsipras, vittoria di Pirro. Ok al piano UE, Sirisa, K.O. Voto nella notte. Premier salvato dalle opposizioni. E intanto ci sono state delle cariche della Polizia in piazza. Il tempo quotidiano della capitale. C'è la cronaca in primo piano. Giulieliere rapinato e ammazzato. In centro a Roma può finire così. Un settantenne ucciso con un colpo alla testa a una zona Prati. La sorella in lacrime dice morire così è assurdo. In alto, ricorderete, la questione di Emanuele Orlandi, tutti i segreti. Si parla della spy story vaticana. Prelati, boss della Magliana, politici, depistatori, 007 mitomani. Le carte dell'inchiesta sulla ragazza scomparsa che fanno tremare il cupolone. Dal tempo al Quotidiano della CEI a venire, dura la povertà. Titolo di apertura. 4 milioni di italiani in condizioni di indigenza. Si inverte il trend. Renzi, bene, ma c'è da fare. Dunque i dati Istat per il 2014, frutto di un nuovo metodo statistico. Segnalano il dramma del sud, delle famiglie numerose e dei migranti. Da avvenire adesso al secolo d'Italia, anche qui la questione Grecia, Tsipras perde altri pezzi. Si dimette il viceministro delle finanze. Ed ora il mattino di Napoli. L'apertura è dedicata alla Grecia. Mentre sulla spalla, la cronaca, il cognato di Daniele uccide moglie e figlio. La scoperta dell'assessore e dell'altra sorella, un assessore comunale di Napoli. L'uomo poi si è tolto la vita. Chiudiamo anche il mattino. Siamo sull'apertura della Gazzetta dello Sport. Arturo Vidal via a fare da 10. Arturo ha l'intesa con il Bayern. I tedeschi offrono 30 milioni. La Juve ne vuole 45 a 35. più bonus si chiude. Bene, con la Gazzetta come sempre concludiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo alle 14 il telegiornale. Arrivederci. Buona giornata. Grazie a tutti.